Un nuovo incarico che è stato ovviamente quella preferenza che avevo espresso io all'indomani della mia elezione di far parte della Commissione Difesa che da lunedì in qualche modo ci vedrà in campo nel lavorare rispetto ad una delle commissioni principe del Parlamento ma che dovrà anche vedere un impegno sulle tante problematiche che negli anni abbiamo ascoltato, dalla competenza sull'Irano Impoverito alle tante esigenze che le forze armate ma soprattutto quello pilastro che guarda a questa nazione per identità, per storia e per cultura bisogno rispetto ai tanti provvedimenti che andremo ad approvare per me ovviamente un motivo di orgoglio, ancora di più rispetto a quella volontà che è stata espressa di essere poi nominata capo gruppo all'interno della stessa Commissione Difesa un grazie di vero cuore a Giorgia Meloni per la fiducia, a Fratelli Italia per avermi in qualche modo ancora una volta dato quella che era per me una preferenza ma soprattutto un privilegio che spero di onorare visto e considerato l'alta responsabilità. Il nuovo governo ovviamente come abbiamo già sostenuto, essendoci già astenuti in qualche modo nel momento della fiducia, attiveremo affinché si possano realizzare i tanti progetti messi in campo, soprattutto quelli che noi insieme alla Lie e Lega abbiamo messo nel programma della campagna elettorale. Voteremo di volta in volta con la responsabilità di una classe dirigente che saprà valutare i vari provvedimenti che arriveranno in aula e quindi avere quella posizione in qualche modo di appoggio rispetto a quelli che per noi devono essere le priorità di questa nazione che avranno ricaduta un'attenzione per il Sud e per quanto mi riguarda maggior ragione per la Calabria ma che dovranno avere soprattutto quell'indice di gradimento degli italiani con i quali abbiamo assunto degli impegni che dobbiamo onorare. Ospichiamo ovviamente che questo governo in qualche modo rappresentato dalla Grillo e dalla Lega possa vedere ovviamente la giusta apertura soprattutto da parte di quella compagina alla quale ci sentiamo lontano e quindi per quanto ci riguarda dai 5 Stelle di apertura nelle tante idee che Giorgia Meloni ha portato avanti nel corso, devo dire, del suo mandato.